Il calvario umano e processuale inizia nel 96, il 6 marzo dice con precisione quasi ossessiva il protagonista della vicenda, da allora prima il baratro economico ed umano appunto, poi la stangata sulla salute, infine la chiusura delle attività, attività che avevano fatto parlare di sé in tutta Italia e poi l'attesa, attesa del riconoscimento di un diritto al esarcimento conclamato sin dal 2009. Tutto parte da una cambiale, la trama della storia di Pietro Parisi, noto negli anni 80 per la sua rivendita di fiori e piante al centro di Nociara Inferiore, è di quelle che lasciano in bocca un retrogusto amaro. Figlio di fiorista, nipote di fiorista Pietro Parisi è uno che davvero aveva voluto farcela da solo, come quando dormiva all'interno del suo primo negozio a San Marzano sul Sarno. È nel 1981 che l'inaugurazione dei locali di oltre 360 metri quadrati in via Barbarolo a Nociara Inferiore costituisce il salto di qualità. L'attività è fiorente e Parisi si fa apprezzare e stimare nelle fiere e negli eventi florovivaistici anche di quel nord dell'Italia diffidente rispetto ai meridionali in quei tempi, dice Pietro Parisi in modo particolare. Poi l'imprevisto. Nel 96, ma Parisi lo saprà solo un anno dopo, viene protestata una delle cambiali del leasing con cui il commerciante aveva acquistato un furgone. 340.000 lire l'importo. Di certo un errore, lo dirà poi anche la giustizia, visto che non accade, come di consueto spiega l'avvocato Giuseppe Fagliella, che il titolo venga consegnato al creditore perché cerchi di incassarlo, ma al debitore e per di più senza l'avviso di protesto allegato. Dunque il commerciante di fiori va avanti nella sua attività, ma, racconta, inizia a notare che i suoi fornitori vogliono sempre pagamenti incontanti, che non gli forniscono quantitativi di merce adeguate alle sue necessità. E tutto questo inizia a causargli qualche affanno, ma lui non ne conosce l'origine, finché un martedì di circa un anno dopo quel 6 marzo, quasi per caso, si imbatte nella verità. L'agenzia WIC che faceva un'informazione bancaria per i protesto e altre cose, è così per scherzi, per vedere come si faceva a fare questi protesto, ricette prima, Parisi, Pietro, cioè, Pietro, ti perdi tempo, ricette prima, nel vedere, uscì Parisi, Pietro, ne cambia le 340 milaire per un contratto a sabato di un furgone, che era protestato. Signori, io anche l'unimento là, io è già stato male. È l'inizio del Calvario. Parisi è ferito nell'animo e la sua salute comincia a vacillare, rincorre la verità, cerca giustizia, vuole a tutti i costi dimostrare che c'è stato un errore. D'altra parte, lui, quella cambiale, l'ha pagata e ne ha le prove. Nel 2001 la sentenza di primo grado stabilisce l'illegittimità del protesto. La banca fa appello. Dopo tre anni, essendo stato Parisi condannatosi neanche alle spese processuali per i due gradi di giudizio, l'avvocato Feiella propone ricorso in Cassazione. Nel 2009 la sentenza che riconosce di nuovo l'illegittimità del protesto, oltre a rinviare il giudizio alla Corte d'Appello di Salerno affinché quantizzi il risarcimento del danno cui Parisi ha diritto. Parisi che nel frattempo è stato costretto a dismettere la sua attività nel 2005 per ragioni di salute, la depressione innanzitutto e poi sette interventi chirurgici solo negli ultimi due anni. Da allora aspetta. Lui vuole ottenere il risarcimento a 360 gradi, vuole raggiungere tutti e dire guardate avevo ragione io non ero protestato perché si tratta di un protesto illegittimo. E dall'altro qualora, poiché ha subito dei danni rilevanti, naturalmente l'avvocato si è preoccupato anche di farne richiesta, anche se questa non era la primaria sua fine, il primario suo fine. E siamo qui, la Corte d'Appello dovrebbe solo decidere sulla quantificazione del danno, siamo ancora qui ad aspettare sempre. Dal 2009? Dal 2009, sì.